Tutte le feste della chiesa sono belle. La Pasqua, sì, è la glorificazione, ma il Natale ha una tenerezza, una dolcezza infantile che mi prende tutto il cuore. Pace bene, fratelli e sorelle. Ci avviciniamo sempre di più al Santo Natale, infatti il pensiero di oggi è concentrato di più sul Natale. Padre Pio dice che tutte le feste della chiesa sono belle. La Pasqua, la Pasqua è il nostro mistero grande della fede, è la glorificazione, ma il Natale, dice Padre Pio, ha una tenerezza, una dolcezza infantile che mi prende tutto il cuore. Padre Pio aspettava il Natale e si dilettava nel guardare chi faceva il preseppe, stava lì ad ammirare il preseppe, addirittura diceva volete vedere l'umiltà di Dio, volete imparare ad essere umili? State davanti al preseppe, guardate il preseppe, guardate la Madonna poverella, guardate il poverello San Giuseppe, adorate il bambino Gesù, si commuoveva. Pensate che quando lui ha avuto l'estasi, che si trovava a Venafro, Gesù bambino, almeno pare che nella storia della chiesa sia l'unica apparizione, quella di San Pio, di Gesù bambino, la Madonna gli appare con Gesù bambino già crocifisso. Gesù bambino porta le piaghe già, no? E Padre Pio quando vede in quest'estasi, vede la Madonna che dice perché oggi vieni così? Mi fai vedere il bambino così, tutto piagato, perché Gesù sei così piccolo e così piagato? Gesù le annunciava già che cosa? La sua crocifissione, la sua crocifissione. Ecco perché lui amava il Natale di un amore grande, aveva una tenerezza verso il Natale. Pensate quando lui la notte di Natale si doveva preparare per la celebrazione della Santa Messa di Mezzanotte, portava questo bambino Gesù che ancora è conservato qui, questa statuina piccola, bella, che è una reliquia preziosa dove chissà quante volte Padre Pio avrà visto questo bambino animato. Pensate, ci sono delle apparizioni. C'è quella di Padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi che per tredici anni, superiore presso la comunità religiosa di San Giovanni Rotondo, narra in un suo manoscritto. Dormivo, dice, in una cella angusta quasi di fronte a quella numero cinque dove stava Padre Pio. Non so perché verso mezzanotte mi levo dal letto quasi spaventato. Il corridoio era nell'oscurità rotta dalla luce incerta di un lumicino a petrolio. Mentre stavo sull'uscio per uscire ecco che passa Padre Pio che torna dal coro o verrà stato in preghiera. Era mezzanotte. Padre Pio tutto luminoso, con Gesù bambino sulle braccia, andava a lenti passi e mormorava preghiera. Passa davanti a me tutto raggiante di luce e non si accorge della mia presenza. Era un'estasi. Vedete, questo Padre Pio con il suo bambino, il bambino di Betlemme, come Francesco d'Assisi. Ci esorta ad amarlo, questo bambino che è venuto per noi. Pace e bene a tutti.